Quello che sia giusto fare per l'istituzione è non abbandonare le persone più deboli, non far finta di niente girando le spalle come è stato fatto da Ceriscioli che ha detto il rischio di impresa. Il rischio di impresa va bene quando le regole del mercato sono in concorrenzialità, sono trasparenti e sono rispettate. In questo caso alcune regole sono state cambiate durante la partita in modo surrettizio e scorretto. Quindi ritengo che sia giusto creare, visto che siamo in fase di approvazione di bilancio, un fondo di solidarietà per aiutare le persone che hanno perso tutto. Ovviamente di questi soltanto coloro che hanno un reddito basso, cioè quindi utilizzando il modello ISEE capire chi sono le famiglie colpite in modo drammatico da questa vicenda e che non hanno risorse proprie per andare avanti. E credo che in questo caso sia un bel gesto anche di chi si prende carico di certe situazioni che in un momento come questo possono rappresentare per i marchigiani e per le marche una seconda crisi dopo quella del 2008.